previsioni meteo di venerdì 21 aprile al nord bel tempo con cieli da poco nuvolosi a parzialmente nuvolosi sul triveneto sulle alpi venti da nord con clima invernale e gelate diffuse al centro instabile sulle regioni del versante adriatico con rovesci sparsi e neve fino a 600 800 metri soleggiato sul versante tirrenico e sardegna al sud è stabile sul versante adriatico con rovesci e neve fino a 600 700 metri discreto altrove venti deboli variabili mari da molto mossi ad agitati temperature in calo